Ragazzi bentornati di nuovo su Silvano Ambra Non so se è una notizia bella o brutta Però forse sarà più bella Perché abbiamo deciso di andare in un altro canale Abbiamo fatto un altro canale Silvi, Tobi e Sebi Abbiamo pensato di fare un altro canale Nuovi video Ma la Big Vanilla andrà avanti tranquilli E Sebi, perché Sebi ci accompagnerà un altro Un altro amico In questo lungo viaggio Vi dico solo Abbiamo 9 iscritti Cioè partiamo già con Bene 5 video E andiamo sempre con giochi di bambini Quindi vi dico solo Iscrivetevi al canale E lasciate un bel mi piace E vi faccio sentire qua il nostro amico Ciao sono Sebi Sebastiano però era Vabbè era Sebi perché si fa rima Vabbè E io sarò Ho fatto la bellissima immagine Profilo che potrete vedere E ovviamente come vedete L'amongas sotto sta per il mio personaggio preferito E ovviamente in questo nuovo viaggio Io giocherò Soprattutto a Roblox E sarà un bel amongas nero Ciao Ecco qua avete appena sentito la nostra voce dell'amico Si vede che gli piacciono tanto gli amongas E lo so che per alcuni potrebbe anche dispiacere Ma ve lo dico perché Per cui si iscriverà qua Dovrete cambiare questo canale Abbiamo deciso di farlo un altro E portare avanti Questo è tutto E non ci vedremo Più Ciao